Buongiorno e buon sabato. Benvenuti alla nuova edizione del mini giornale ventista con notizie flash per le chiese. Il Dipartimento Affari Pubblici e Libertà Religiosa organizza un corso di formazione per i responsabili locali. Il corso avrà luogo dal 5 all'8 agosto a Villa Aurora e avrà alcune sessioni congiunte con il corso per laici. La partecipazione è gratuita e le spese di viaggio saranno sostenute dalla chiesa locale. Il corso si rivolge ai membri laici e ai pastori che svolgono o sono in procinto di svolgere l'incarico di responsabile APLR nelle loro chiese o a coloro che semplicemente sono interessati alle tematiche del corso. Sarà un momento di formazione e di confronto sulle tematiche che più frequentemente sollecitano il Dipartimento APLR locale, ovvero il dialogo tra la chiesa e le istituzioni, i rapporti con le altre fedi, i temi della libertà religiosa, la situazione geopolitica della libertà religiosa nel mondo. Ne parleremo anche con ospiti esterni. Per chi si fosse perso le dirette di venerdì e sabato con il presidente della conferenza generale, informiamo che sono disponibili le registrazioni sul sito di Hop Channel Italia, la storia della chiesa ventista con Gianfranco Rossi, il question time con il presidente Ter Wilson, la cerimonia di consacrazione del pastor Gavrilita, 90 anni della chiesa ventista su www.hopchannel.it. Grazie per averci seguito, buon sabato a tutti.